27 febbraio 2013, sembra impossibile ma in questo caso è tutto vero. Benvenuti a un altro stream out qui dagli studi Vicolo Ponte Corvo, quelli da Radio Sherwood, benvenuti a tutti voi che siete venuti per vedere i tronisti della democrazia. Sono già stati qui, anzi Lodo è già stato qui, hanno già presentato un loro fortunatissimo album e i precedenti EP in altre forme di tour, questa è una forma decisamente nuova, lo si vede dai loro abiti e non è dovuta alle elezioni. Benvenuto allo stato sociale. Ciao! Grazie, 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 troppo buono, troppo buono. Allora, carissimi ragazzi, visto che sono vestito peggio di voi mi sento un po' investito di un ruolo che mi ha un po' conosciuto e un po' tristo, che è quello di farvi da intervistatore. Pertanto, nel ringraziarvi ulteriormente per la vostra presenza, vedete già le lettere maiuscole per la particella, vi faccio una domanda molto particolare. Perché tronisti della democrazia, immagino, non ve l'abbia fatta nessuno? Non la so, neanche io. Qualcuno? 1986! 1986, la risposta è questa. Perché ci piace stare seduti. E invece in questo momento la situazione è completamente capovolta, per cui ci sono altre cose che vi piacciono e tra quelle che si possono dire certamente c'è la musica, che vi ha spinto un po' insieme all'amore per l'arte a dare dei buoni frutti come la terra che viene coltivata. Se lo dici tu. Sì, sì, ne sono assolutamente certo. Quindi, uno dei vostri grandi amori, credo di non svelare nessun segreto al grande pubblico in streaming e presente in sala, se dico che è anche la forma d'arte, la forma musicale degli Oflaga di Scopax. Sì. E visto il vostro amore per gli Oflaga, vi chiedo un po' delle differenze e delle affinità tra i compagni Oflaga di Scopax e voi. Ad esempio, loro parlano sempre comunque del passato. Loro hanno una certa refrattarietà alla forma digitale, visto che i loro brani non sono rintracciabili negli store online. E loro probabilmente non avrebbero fatto un crowdfunding o un found. Raccontate il found raising di questo album e le vostre differenze appunto con i compagni Oflaga. Hai descritto gli Oflaga come una banda di vecchi. Assolutamente no. Non siamo d'accordo. Siamo in questa conferenza stampa per raccontarti che l'esperienza MusicRaser è stata molto importante per noi. Grazie. Io sono già commosso. 28 anni che lo sono. Qualche mese fa siamo stati contattati dal collega Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi che ci ha proposto di buttarci in questa avventura. Noi stavamo già pensando di fare un'edizione deluxe del disco e ci siamo fatti convincere a produrre. Grazie a voi. Grazie. E' andato tutto molto bene. Dovevamo fare 4.000, avevamo fatto 5.300, lo vendiamo al banchetto, è bello da toccare, è un ragazzo giovane, anche chi lo tiene è un ragazzo giovane, malgrado gli Oflaga. E' andato, cioè è spaccato MusicRaser, malgrado tutto ha spaccato. Sono laureato a Boston anch'io. No ma infatti hai fatto anche tu lo zecchino d'oro? Eh sì, due volte. Dal ventre. Tutte due secondo. Ed è tutto molto bello. Soprattutto un topos delle vostre canzoni, visto che è finito persino in un EP, è l'IKEA. Non c'è niente da dire. E pur se l'IKEA non ha una matita copiativa da ciucciare poi e utilizzare per fare tris, per esempio. Comunque in questi giorni qualcosa che è stato nominato da voi è diventato un po' simbolo del modo di vivere diverso italiano. Sono sparite le polpette, l'Italia è impazzita. Pare che sia impazzita anche durante il weekend. In quest'Italia divisa, come vi ponete, visto che avete sempre dato abbastanza importante, importante soprattutto licenza poetica alla politica? Lui ha lavorato all'IKEA per tanti anni nella sua vita. È vero, ho smesso. Ho smesso. Però ho smesso. E Carota ha smesso, anche lui. Anche lui ha smesso. Quindi noi abbiamo lavorato all'IKEA e poi abbiamo smesso. Potete farlo anche voi. Ma non avete smesso di amare? No. No, quello mai. Marzulliano. Ma non l'abbiamo neanche mai iniziato. Caro Lodo, un volontario, dopo tutto questo tour infinito, era necessaria questa nuova incarnazione in giacca, cravatta e imu? Assolutamente no, però una maniera per rovinare le cose la troviamo sempre noi. Volevamo rovinarle in maniera un po' più creativa del solito. E allora ti farò una domanda. Questa creatività si vede anche in questo teatro nel teatro, in questo meta teatro, in questo tour teatrale, tanto per trovare delle altre alliterazioni molto comode, che alla fine vi vedono un po' recitare a soggetto, come un terzo pirandello, no? È la chiusura di un cerchio? Dici se il terzo è pirandello, chi è arrivato prima e secondo. Questa è una bella domanda, ma i polli non possiamo rivelarmi. Sì, è la chiusura di un cerchio? No, è una bolla di sapone. Guarda che ho le metafore che io... Che comunque è circolare. Che comunque è sferica. È sferica, è sferica. È una bolla di sapone che si inserisce sopra un tubo d'alluminio, che va incessante, no? Fai il suo corso verso il destino, si appoggia a questa bolla di sapone, che è il momento in cui noi ci mettiamo eleganti. Poi dopo, da maggio, ricominciamo ad essere quelli di prima. Come i bermuda. Ripetiamo. Sì, è una bolla di sapone. Però, cioè, l'importante è non farla scoppiare. Mi piace quando parli per pirofile, per cui mi verrebbe anche da chiederti una cosa molto importante. Avete ricevuto molti apprezzamenti, soprattutto dal pubblico pagante, che l'ha anche sottolineato, come in una famosa canzone di De Gregori, con le presenze. Però avete ricevuto diversi atti di, non solidarietà, ma apprezzamento. Lo stesso video di Sono Così Indi, che è la canzone che vi ha lanciato nel lontano 94, se non erro, comunque rappresenta un po' l'immaginario collettivo della musica indipendente italiana. Avete anche ricevuto delle critiche, e non si parla di gargamella e birba, in questo caso. Come avete preso un po' questi attacchi che nascono un po' da rogna, e un po' in altri casi da pensieri decadenti? Noi cerchiamo di fare cultura perché ci sia qualcuno che cerchi di impedircelo. Solo così il mondo porta davanti. No, no, è vero o no? No, noi ci piace molto che, bene o male, diciamo delle cose, quindi qualcuno si accorge che abbiamo detto qualcosa e critica il fatto che non va bene quello che diciamo. Cioè, tipo, se io ti dico, guarda, questa cosa è bianca, è un pensiero talmente deciso che tu, se pensi che non sia bianca, me lo fai notare, mi dice, è nero, è verde, è bordono. Se io invece ti dico, questa cosa è... Questa è una cosa un po'... E dopo nessuno dice mai niente. Parlo per metafora oggi, non so perché... Non mi sento davvero di mettere in crisi i daltonici con tutto questo, perché non sarebbe un atto corretto da parte mia. Ma avete un consiglio, voi che comunque siete musicisti militanti, anche se solo in cinque siete comunque militanti, altrimenti sareste mili pochi, ma avete una certa idea da trasmettere alle persone che... Guarda, si scende di là se vuoi. Nell'ultimo periodo... Sì, va, l'ha rullata, l'ha rullata, l'ha rullata. Non c'è, niente. No, ma mi dispiace sia stata interrotta la cosa più importante. Avete qualcosa da consigliare a quelli che nell'ultimo periodo si sono accorti che esistono le piazze? C'è stato anche un jingle per sottolineare... Compratevi il tutto a città. Riscoprite il cartaceo. C'è anche Google Maps comunque. Ma non naviga bene Google Maps. Non naviga in buone acque, un po' come Schettino, e nel frattempo io vi ricordo ancora che questo Turisti della Democrazia in edizione deluxe o dell'axe che dir vogliate è ricco di sorprese, anche dal di dentro, ma anche dal di fuori. Ci sono anche delle cose un po' particolari in questo disco? Volete parlare in particolare di qualcosa? Di qualcosa che parte calmo con l'officina della camomilla e poi arriva un tecnicolor? Anche no. Ah, la domanda non è quella. No, volete parlare. È una domanda retorica, cioè nel senso... La risposta è volontaria. La domanda non è se vogliamo parlare. Vogliamo parlare interlocutore. Però è tendenzioso. Vorriate, esortativo. Vogliate parlarci... So che solitamente parlate solo con il web. Sì, solo... Ma lui non risponde. Noi e lui. Visto che conoscete i congiuntivi... Sono cinque anni che suoniamo e nessuno ci ha aperto, sono queste cose qua. No, c'è tipo che abbiamo molti amici, molto in gamba, che sanno suonare e cantare a differenza nostra. Quindi abbiamo provato a fare un'operazione proprio di economia reale e innovativa. I nostri fan, che sono meravigliosi, ci danno i soldi per produrre un disco che non suoniamo noi. I nostri amici, che sono meravigliosi, per un gesto d'amicizia suonano i nostri brani molto meglio di come li suoniamo noi. gratuitamente esce un disco migliore del nostro e noi nel frattempo con quei soldi andiamo in vacanza. È un bel progetto. È un impegno concreto. È perché c'è gente meravigliosa in questo mondo che rende possibile tutto ciò. E grazie alle interessanti prospettive concesse dai finanziatori dello Stato Sociale e grazie anche al suono che è partito che non ricordava nemmeno minimamente Jump Day Van Allen in questo caso, ed è una cosa che è molto difficile ai nostri giorni, mi sento di fare un'ultima domanda allo Stato Sociale. Dove volete arrivare? Io a casa. Stasera torniamo a casa, sì. Bevo, bevo, bevo. Bevo, dove vogliamo arrivare? La trattiene perché è grossa. Governeremo questo paese. Buon compleanno! Con il 24% dei bicchieri rotti in più. Quello di rompere i bicchieri è un gesto tipicamente russo. La conferenza stampa è tolta, giù c'è il bar, ci vediamo tra poco. Rimanete per l'intervista, grazie. Io ringrazio lo Stato Sociale che nel frattempo ha fatto una dichiarazione di poetica abbastanza interessante. Rimanete con Sherwood.it. Vi ricordo fra l'altro che c'è una lotteria a cui sarà molto bello vedervi partecipare. C'è anche un festival che arriverà presto e rivedrà delle facce conosciute, diciamo, sul nostro palco. Grazie a tutti e buona serata Stream Out. Grazie. 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 Grazie.